ciao a tutti ragazzi rieccoci qui con i nuovi giochi gratis della giornata i nuovi giochi gratis perché a parte questo che troverete su epic da 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 poco più di mezz'ora è uscito e lo potrete riscattare fino a domani alle 5 poi vedremo un nuovo gioco sperando che sia migliore allora partiamo prima da questo poi ce n'è un altro su gog che però non so per quanto tempo sia gratis quindi dopo affrettatevi a riscattarlo allora il primo gioco appunto è questo qui si chiama moving out che mi sembra un giochino abbastanza simpatico si può giocare sia da soli che in cooperativa in lan però purtroppo non si può giocare in online diciamo multiplayer online non è concepito potrete giocare su un solo pc fino a credo a quattro giocatori si fino a quattro giocatori possono mettersi comodi sul divano a discutere sul modo migliore di spostare un divano ok sembra caruccio di party game sono divertenti quindi diciamo che può essere un bel giochino da proporre magari agli amici quando vengono a mangiare una pizza a casa magari giusto per farsi quattro risate va bene comunque diciamo è fine a se stesso questo è il gioco non è che è del team 17 quindi punto in più perché io sono un fan del team 17 quelli di worms quindi do ancora un voto in più a questo gioco quindi diciamo che supera diciamo un 6 più ma da un voto più basso metterebbe anche un 7 se fosse online purtroppo non lo è quindi diciamo che mi tengo su questo avuto che comunque non è male e anche sottotitolato comunque sottotitolato c'è l'interfaccia in italiano quindi cosa ancora in più e vabbè comunque questo qui il giochino che ci regalano oggi non è brutto né bello insomma può essere divertente poi andiamo al gioco che regalano su gog e si tratta di xmorph defense complete edition che onestamente non ho mai sentito nominare ripeto non so fino a quando sarà gratis quindi affrettatevi se il gioco vi interessa ma anche se non vi interessa perché ce lo regalano e noi come sempre ce lo prendiamo allora che 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 gioco è è un tower defense ok già questa cosa non mi piace però c'è un fattore diciamo di originalità che praticamente a parte piazzare le difese per difendere la base dai nemici che arrivano ad ondate potrete voi stessi diciamo difendere in prima persona perché potete pilotare questo apparecchio non so se poi penso si possano cambiare insomma con l'andare avanti magari si potranno uploadare oppure cambiare addirittura questo lo ignoro però diciamo che c'è questo elemento in più che rende un attimo più diciamo differente il gioco dagli altri tower defense almeno quelli che conosco io e ancora in più c'è una grafica direi almeno vedendo da qui questo breve video diciamo che c'è questo spezzone di video sembra abbastanza anche caruccia la grafica vedo che butta giù la torre eiffel gli effetti sono non sono male quindi non lo so comunque mi sembra leggermente diverso dalle altre giofeche dei tower defense sempre con tutto il rispetto per chi ama i tower defense ovviamente ci mancherebbe altro e va bene ragazzi comunque tutto qui noi ci fermiamo ci diamo appuntamento spero a domani sperando che esca almeno un gioco non dico bello ma un gioco simpatico come come questo qui che ci hanno offerto oggi va bene non è che ci dobbiamo sempre aspettare il giocone questo ovviamente no anche perché io lo spero qualcosa almeno il 30 cioè tra due giorni che è l'ultimo giorno in cui regalano cioè che finisce questa iniziativa del del gioco al giorno quindi nel 30 o pongo un po di fiducia insomma però potremmo rimanere delusi come sempre cioè come sempre no perché a volte veramente ci hanno sorpreso però speriamo dai speriamo nel in bene noi ci fermiamo qui mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate un like sotto al video se vi va iscrivetevi anche su facebook che a volte trovate notizie che su youtube al momento non posso dare e quindi è meglio essere iscritti anche lì in caso poi di problemi io posso comunicare comunque con voi va bene iscrivetevi al canale già l'ho detto lo ripeto iscrivetevi al canale noi ci vediamo domani ciao